Ora possiamo vedere un esempio di request di WMS Temporale Ora aggiungerò una connessione a un servizio test di WMS che contiene data semplice Ora inserisco il servizio test di servizio e registro il servizio Se il WMS supporta il parametro del tempo è possibile attivare il parametro del tempo globale in questa seczione Possiamo anche aggiungere la range del tempo del tempo Poi il request di WMS Temporale è fatto da muovere il tempo Il valore del tempo è passato all'interno del tempo e abbiamo la risposta secondo il valore Ora possiamo vedere come cercare nel catalogo del CSW Let's open Search for metadata Here abbiamo un menu dove posso scelicare tra le CSW connessioni connessioni alla sessione In questo caso ho solo un catalogo e posso scelicare quale profilo il portale applica ai risultati di risultati Let's select Inspire E poi scrivo qualcosa per cercare Questo è il liceo di risultato alcuni risultati sono semplicemente data set metadata, altri sono data servizio per i servizi è possibile aggiungerli direttamente alla mappa oppure è possibile mostrare l'intervento nella mappa cliccando sul titolo è possibile go to view the metadata detail